Buongiorno, diamo il benvenuto ai consiglieri Monica Cerutti di Sinistra Ecologia e Libertà, Massimiliano Motta di Fratelli Italia e Daniele Cantore del PDL, Popolo della Libertà, in attesa della consigliera Mercedes Bresso del Partito Democratico, per un'intervista a quattro che segue la presentazione del rapporto sullo stato e l'ambiente presentato nei giorni scorsi da ARPA e Regione Piemonte. Un rapporto che ha visto la Regione Piemonte su molti argomenti in posizione avanzata, su altri si presentano ancora dei problemi. Quindi, insomma, Piemonte, luci e ombre sullo stato e dell'ambiente. Una criticità in particolare, che è emersa chiaramente dello studio, ma che è una criticità non nuova, soprattutto per i grandi centri urbani, a parte Verbagna, è quella della concentrazione delle polveri sottili, quindi della qualità dell'aria, che secondo le previsioni anche dello studio dell'ARPA, da qui al 2015 vedrà una sensibile riduzione, ma al momento c'è ancora un problema grosso anche sulla qualità della salute dei cittadini. E chiedo quindi subito alla consigliera Cerutti, cosa è possibile per migliorare la qualità dell'aria, fare per migliorare la qualità dell'aria, e soprattutto come anche i problemi che emergono dal punto di vista dei trasporti, quindi del ricambio dei mezzi a disposizione, anche dell'efficientamento degli stabili, è possibile fare per migliorare la qualità dell'aria, soprattutto nei grossi centri urbani. Il tema è certamente un tema importantissimo, vorrei ricordare, così come veniva ricordato nella relazione che la Commissione europea ha indetto proprio quest'anno, l'anno 2013, come anno dell'aria. E forse l'aria è proprio il tema ambientale più in sofferenza nella nostra regione. E bisogna dire che su questo certamente noi siamo critici dal punto di vista di quelle che sono le politiche che in realtà non crediamo si siano fatte proprio per aggredire la questione in modo più serio, come si dice, strutturale. E chiaramente la questione dei trasporti è la questione centrale, perché sappiamo che il tema delle polveri sottili in particolare, poi riguarda anche l'ozono, il biossido di azoto, è un tema che più volte da parte politica è stato posto anche come quasi inevitabile proprio per la conformazione della pianura padana e quindi da questo punto di vista si è detto poco si può fare. In realtà si dovrebbe fare di più, anche perché ormai è chiaro che ad incidere, soprattutto appunto nelle grandi città, sono i trasporti. E quindi innanzitutto incidere di più sulla politica e sull'utilizzo dei trasporti pubblici. E a me sembra che purtroppo, è chiaro che quella che è la contingenza economica di questo momento non aiuta, ma certamente il tema del ricambio dei mezzi, ma soprattutto anche un investimento serio sul trasporto su ferro. E quindi non lo dico il taglio delle linee ferroviarie, ma in realtà provare ad incentivare e anche a lavorare di più dal punto di vista modulare, su quelle che può essere appunto l'interconnessione ferro, gomma e altre modalità di trasporto, a me sembra che su questo fronte in realtà le politiche trasportistiche procedono in una direzione e le politiche ambientali in un'altra. E quindi non ci sia un'idea di insieme. Quindi da questo punto di vista credo proprio che si può fare di più. Certamente c'è anche il tema del riscaldamento, che può essere insomma su cui si può incidere, ma su questo forse si è già lavorato abbastanza. E per esempio Torino, che è la città più importante, il capoluogo piemontese, è comunque la città che continua ad essere quella più teleriscaldata a livello nazionale. e quindi da questo punto di vista certamente i passi avanti sono stati fatti. Però credo che una seria riflessione sui trasporti sia quella che dobbiamo assolutamente portare avanti proprio per concepire anche dal punto di vista ambientale questo tema, ma finora appunto in modo invece secondo me questo non vi è stato. Andiamo a dire, ma intanto mi permettete, cioè intanto per inquadrare anche questo studio che è stato presentato e questa analisi che è stata presentata, che comunque mette già la Regione Piemonte, il governo attuale, in una situazione di lavorare con dei dati oggettivi e quindi aver fatto un monitoraggio che è utile sicuramente per tutti i tipi di intervento nei vari settori dell'aria e di quant'altro. Poi devo dire che qualche cosa sull'ambito delle emissioni delle prove sottili e quello dell'inquinamento dell'aria non ci dobbiamo adagiare sul fatto che comunque le varie procedure di infrazione che erano nei confronti dell'Italia non ci sono più, perché questo è già un dato positivo, però è chiaro che molto bisogna ancora fare, specialmente sui dati che abbiamo letto. Però io credo che il piano a stralcio per la mobilità e quindi l'investimento che è stato fatto da parte della Regione Piemonte su questo piano nell'ambito dei contributi in conto interesse per quanto riguarda la mobilità, gli interventi in maniera di risparmio energetico che confluiscono poi anche nell'ambito della riduzione dell'emissione atmosferica sia la strada giusta, proprio perché se no quella previsione che l'ARPA ha disegnato non sarebbe neanche possibile. Quindi purtroppo su questi argomenti qua bisogna ragionare in termini di lassi di tempo che almeno siano 3-4 anni perché non si può vedere l'effetto immediato. E quindi secondo me la Regione Piemonte, nello specifico l'assessorato all'ambiente, si è indirizzata in quest'ottica. Poi come diceva giustamente anche e riconosceva giustamente la consigliera Ancelutti, molto è stato fatto anche per quanto riguarda l'emissione da riscaldamento con anche una derivata di giunta specifica per quanto riguarda l'applicazione del termovalvole sui singoli ambiti di scaldamento, perché anche quello era importante per quanto riguarda l'emissione in atmosfera praticamente di tutto quello che può essere inquinante. Quindi io credo che la strada è tracciata, si tratta chiaramente di essere rigorosi nell'applicazione di queste regole. Penso anch'io che la strada sia stata tracciata, però sono dell'opinione che non ci si debba fermare. Mi pare che a differenza di qualche anno fa abbiamo un approccio a questa problematica molto importante che riguarda la qualità della vita dei nostri concittadini e di noi stessi. La salute nelle sue varie espressioni, basta vedere i dati di incidenza sulle vicende polmonarie, le vicende cardiache, mi pare però, e non vorrei poi essere smentito dalla collega Ceruti, che finalmente stiamo arrivando a un approccio comune, mi spiego meglio. Dobbiamo agire sul riscaldamento, in parte in questa città, e dobbiamo riconoscere le amministrazioni che si sono succedute, è stato fatto, perché il teleriscaldamento copre già una parte della città, deve essere ampliato il teleriscaldamento. Non possiamo più dire, ahimè, di dover intervenire sull'industria, perché non c'è più l'industria, o quel poco che è rimasto, speriamo sia a posto, ma qualche anno fa parlavamo anche di intervenire sui fumi industriali. Per quanto riguarda l'inquinamento da PM10, da biossido d'azoto, da ozono, che è portato, soprattutto nella città, da inquinamento da trasporto, insomma, sia di autoveicoli che privati che mezzi pubblici. Io penso che lì si debba veramente qualcosa, come diceva prima Motte Partito, si debba affrontare questo problema in termini strutturali, quindi vuol dire cercare di regolamentare il flusso nelle città, vuol dire, io concordo, spostare il trasporto dalla gomma alla ferrovia, con tutte le difficoltà che ci sono inerenti a questo. Ovviamente questo comporta delle voci di bilancio che siano coperte. Io ci aggiungo, però, un'altra importante azione che deve essere fatta, è che in parte, adesso noi qui siamo a Torino, parliamo della città di Torino, ma hanno fatto anche alcuni capoluoghi di provincia della regione, la costruzione di parcheggi. Perché, se noi vogliamo risolvere questo problema, io mi permetto di usare questo termine, noi dobbiamo svuotare le città dalle auto, senza che questo incida sul commercio o sull'attività del centro della città. Per svuotare il centro della città, la città dalle auto, abbiamo bisogno di parcheggi e di mezzi pubblici efficaci. E questo necessita di una programmazione tra gli enti, tra la regione e l'ente locale, che sia molto seria. E non si vada avanti, e concludo a slogan, cioè nel senso che, mi permetta questa polemica, ma che riguarda il passato, alcuni pensavano, ma non voglio mettermi nella schiera di quelli che invece la pensavano in modo giusto, che bastavano le domeniche a piedi, o chiudere una settimana l'accesso in città per risolvere il problema dell'inquinamento. Questo si è dimostrato che non è servito a nulla. Se la domenica a piedi deve essere fatta, secondo me, per riappropriarsi della qualità della città, non certo per diminuire l'inquinamento, perché non basta una domenica o una domenica al mese per ridurre il tasso di inquinamento, e così vale anche per i periodi a spot. Affrontiamo con un piano organico di accesso alla città. Va bene, intanto alcune cose sono già state dette. Credo sia evidente che Torino e larga parte del Piemonte si collocano in una situazione particolare dal punto di vista climatico. Noi siamo contornati da Alpi, Colline, Appennino, e quindi siamo in una situazione di pochissima circolazione dell'aria che crea non solo dei problemi generali, come tutti hanno, ma dei problemi specifici, in particolare nelle aree urbane, dove le emissioni si concentrano in alcune aree, in alcuni momenti, e dove non c'è circolazione e vento che consentano la dispersione. Questo, peraltro, ha probabilmente avvantaggiato le nostre foreste, che altrimenti ne sarebbero state colpite, ma danneggia la situazione dell'aria nelle città dove vive la maggior parte delle persone. Quindi noi dobbiamo fare più degli altri. Non è che non sia stato fatto niente, anche in termini strutturali. Torino è oggi una delle città d'Europa, non solo d'Italia, con più teleriscaldamento. ha fatto, come molte altre città, delle politiche di chiusura parziale, ma importante, del centro storico, delle politiche di trasporto pubblico. Sappiamo quanto sia lento, purtroppo, il finanziamento delle metropolitane nel nostro Paese. Questo dovrebbe essere uno dei punti strutturali chiave, cioè finanziare le metropolitane, perché le metropolitane sono quelle che modificano radicalmente le abitudini dei cittadini rispetto al trasporto pubblico privato. C'è un lavoro in corso ancora molto difficile, perché nel centro le nostre strade sono piccole, pur essendo nel resto della città grandi. C'è ancora il problema rilevante di valorizzare l'uso della bicicletta che ovunque in Europa sta crescendo. Paradossalmente si può dire che mentre i cinesi cominciano ad andare in auto, gli europei tornano ad andare in bicicletta, ma non è un fatto negativo, è un fatto positivo. Sicuramente alcune cose ancora mancano, non moltissimo sul piano del riscaldamento, però è vero che completare almeno la rete del gas e quindi ridurre ancora il riscaldamento a gasolio, che è quello sicuramente più inquinante, è necessario perché questo completa il programma strutturale degli impianti fissi. È vero che mediamente ormai gli impianti industriali in parte si sono ridotti, in parte hanno fatto investimenti e si sono messi a norma. Ci sono ancora sicuramente una parte delle abitazioni e su questo io credo che, anche approfittando del fatto che i prossimi fondi europei spingeranno molto verso le energie rinnovabili e l'efficienza energetica, bisogna intervenire. E poi non c'è dubbio che anche le auto abbiano migliorato nettamente le proprie performance, però abbiamo contemporaneamente una crescita dimensionale delle auto, sono sempre più i SUV, i quali consumano comunque più anche delle vecchie 500, non parliamo delle nuove, 500 delle nuove Panda. Quindi di nuovo bisognerà cominciare a limitare le auto non solo per annata, ma anche per emissioni globali, cioè per le emissioni che emettono indipendentemente da un rapporto, ma anche se sono più grosse e quindi emettono di più per chilometro per corso, bisognerà cominciare a limitare, bisognerà sapere che non si va nelle città, non solo a Torino, ma nelle città, perché tutte le città piemontese, eccezione di Verbania, sono in questa situazione, per la stessa ragione, perché la circolazione d'aria manca. Noi abbiamo anche qui, ci sono degli elementi positivi invece nei dati, abbiamo il problema dell'allevamento, non dimentichiamo che l'allevamento è uno dei grandi autori dell'emissione di CO2 in atmosfera, e quindi è in particolare la pratica drammatica di spandere le deiezioni animali, sia maiali che buoi e bovini, di spandere sul terreno. Questa che ci è stata pesantemente messa sotto accusa dall'Unione Europea, ci si cominciano a vedere dei dati interessanti, ci sono molti impianti di digestione dei rifiuti e delle deiezioni, anche l'ideale è che siano piccoli, quindi che non comportino trasporto, ma che stanno cominciando a intervenire bene su questo problema, che è un altro problema rilevante, perché l'agricoltura, non dimentichiamolo, in modo più diffuso, meno concentrato, ma è responsabile globalmente, rispetto al problema dell'ACO, di un altro segmento non minore dell'inquinamento atmosferico. E quindi credo che il percorso non sia sbagliato, ma sia stato finora troppo lento. Ci sono ancora una serie di misure strutturali che possono permetterci di completare un percorso e raggiungere la veramente faticosa per noi, i veramente faticosi per noi limiti europei. La consigliere Motta si parlava prima fuori onda del progressivo svuotamento delle competenze delle province. Questo ha sicuramente un impatto anche sulla gestione di rifiuti, che anche in questo caso presenta comunque dei dati incoraggianti, dal punto di vista della differenziata e anche dell'educazione dei cittadini, ma sicuramente molto andrà fatto anche dal punto di vista dell'alfabetizzazione dell'approccio al rifiuto domestico. E in più anche c'è un nodo enorme aperto che è quello dei termovalorizzatori, se inquinano o non inquinano, e se effettivamente servono a fare una politica migliore di smaltimento dei rifiuti. Insomma, le problematiche anche dal punto di vista del trasferimento di competenze a cui andranno incontro le regioni, e in particolare il Piemonte. Al di là del fatto delle competenze che verranno attribuite alla regione, io credo che già la regione sia interessata per quanto riguarda proprio l'ambito dei rifiuti, già con un atto, che è quello della legge sugli ato, e quindi è già entrata nell'ottica di intervenire direttamente sulla pianificazione praticamente sia delle opere strategiche ma anche di tutta la parte dei rifiuti. I dati, come diceva giustamente lei, sono confortanti perché quell'obiettivo dei 500 kg pro capite che dovevamo raggiungere entro il 2015 noi l'abbiamo già raggiunto in quest'anno e praticamente con un decremento anche rispetto all'anno scorso di un circa 5% di produzione inferiore. Di questo oltre la metà è differenziato, quindi sono dati tutti quanti confortanti. Io credo che anche in questo caso, perché all'inizio dicevo che è importante il metodo che si utilizza per monitorare queste attività e quindi questo studio è sicuramente molto utile e dà un approccio diverso perché questi dati, se continuamente monitorati, possono essere corretti anche in breve tempo. Quindi il grosso compito che ha la Regione, indipendentemente da quelle che possono essere le competenze più specifiche e amministrative, è quello sicuramente di tenere sotto controllo quello che è la produzione dei rifiuti, la loro differenzazione e quant'altro. Il termo organizzatore, io credo che sull'aspetto dell'inquinamento, almeno dal mio punto di vista, anche in uno di quei incontri che abbiamo fatto durante il periodo, proprio come quinta commissione, durante il periodo della fase delle fine dei lavori, il monitoraggio continuo che c'è dell'emissione nell'aria dei fumi da parte dell'ARPA e delle centraline che vengono sistematicamente trasmessi e controllati, questo possa, a mio avviso, mettere al sicuro qualsiasi tipo di perplessità sul fatto che siano inquinanti. Di fatto i rifiuti ci sono e devono essere smaltiti, quindi tutti siamo coscienti che uno strumento ci deve essere, quello del termo organizzatore e l'accelerazione che c'è stata negli ultimi anni proprio nella sua conclusione dei lavori, a nostro avviso, è un ottimo atteggiamento da parte della Regione nei confronti di risolvere quel tipo di problema. Sì, sì, sempre sui rifiuti. Ma sicuramente se prendiamo una dimensione come quella della Regione Piemonte, cioè non una piccola cittadina o una piccola dimensione, il risultato della raccolta differenziata dice che i piemontesi e i comuni piemontesi si sono impegnati molto nella differenziata e che i risultati sono abbastanza stabilizzati anche, cioè non sono degli spot ma sono una situazione stabilizzata con anche il vantaggio che anche l'avvio a riciclaggio è positivo nel senso che ci sono tutti gli accordi, i protocolli per l'uso dei rifiuti separati in qualche caso si separano ma poi non si riutilizzano. Il Piemonte ha anche ottenuto contratti che consentono diciamo di riutilizzare i rifiuti. Quindi questo è sicuramente un fatto positivo. Il secondo fatto positivo qui lo so che alcuni non sono d'accordo è che oggi noi abbiamo un sistema equilibrato che comprende anche la fase finale che è quella del termovalorizzatore che non devono gli termovalorizzatori non devono essere ridondanti perché altrimenti si tende a buttare tutto nel termovalorizzatore. Però per una fase finale ci devono essere perché altrimenti l'inquinamento del suolo lo sviluppo di fauna di fauna nociva il problema delle falde che in Piemonte è rilevantissimo perché abbiamo l'acqua sotto i piedi rischia di diventare pericoloso. E poi perché le normative europee prevedono esplicitamente che ciò che non può essere riciclato non debba andare a discarica cioè non possa essere messo in una discarica indifferenziata ma debba finire in un termovalorizzatore. E' importante ovviamente avere un termovalorizzatore nuovo, recente che non presenti i problemi che vecchi inceneritori in passato hanno anche prodotto. Credo che a questo punto con alcune scelte il Cuneese che usa un cementificio che è un'altra delle soluzioni ragionevoli per la fase finale dei rifiuti e il rinnovo di alcune strutture vecchie che deve essere fatto globalmente siamo abbastanza ben messi dal punto di vista delle strutture. E a questo punto si tratta progressivamente di chiudere le discariche di indifferenziata che devono sparire mantenendo ovviamente dei punti di discarica per i rifiuti separati sia di stoccaggio temporaneo sia anche per ad esempio i materiali edilizi materiali inerti dei punti di discarica però avere diciamo globalmente la tranquillità che i rifiuti possono essere incamminati ognuno nel loro percorso. Globalmente direi che non ci dobbiamo però accomodare perché se si considera anche la quota dei rifiuti che va al recupero energetico inceneritore con recupero energetico noi possiamo arrivare a quello a cui arrivano le migliori aree in Europa cioè oltre il 90% di riutilizzo in parte di materie prime e materie secondarie materie prime e secondarie in parte attraverso la produzione di energia elettrica con l'inceneritore globalmente l'obiettivo deve essere quello di superare il 90% cioè di non mandare praticamente più nulla in discarica non siamo messi male ma c'è ancora un certo percorso da fare anche statistico nel senso che nella statistica se la separazione è fatta bene cioè se all'inceneritore fanno solo materiali che non possono essere riciclati a quel punto l'inceneritore può essere computato nel materiale nel riutilizzo perché diventa energia è chiaro che se invece ci mettiamo qualunque cosa non lo possiamo contare in quel modo e quindi restiamo al 51 e qualcosa per cento sì ma io ritengo questo 51 per cento di raccolta differenziata già un risultato molto importante non prevedibile sicuramente quando è partita la raccolta differenziata mi pare che questo valore sia un valore esteso in tutto il Piemonte anzi in alcune zone del Piemonte anche in alcune zone del Torinese c'è una percentuale superiore a me pare che sul piano culturale i nostri concittadini abbiano capito c'è oggi una difficoltà secondo me strutturale per aumentare questa percentuale che riguarda soprattutto le grandi aree urbane l'area metropolitana di Torino piuttosto che le grandi città come Novara Vercelli e che noi non abbiamo una configurazione urbanistica adatta alla raccolta differenziata e mi spiego meglio in alcune facciamo un esempio di Torino perché siamo a Torino così è più facile in alcune zone della città di Torino è difficile fare il porta a porta perché voi ricorderete che c'erano le pattumiere veniva l'amiat da prendere eccetera questo è ancora più difficile nel centro di Torino come diceva prima la Presidente Bresso dove ci sono strade molto piccole e quindi in alcuni casi proprio la configurazione nei centri storici delle piccole città proprio la configurazione della città porta a una difficoltà nella raccolta del rifiuto e quindi una difficoltà a differenziare aggiungiamo a questo che oggi noi siamo arrivati come dire a un pareggio tra costi e benefici qualche anno fa costava di più smaltire io faccio questo esempio la buccia dell'anguria che comprare l'anguria ma ovviamente si era in una fase iniziale che è stata recuperata in alcune zone però ancora del Piemonte questo pareggio di costi e benefici non è stato raggiunto e questo è un problema vero e quindi non si inserisce nella necessità di alimentare di più la conoscenza dei nostri cittadini o la mentalità secondo me questa è già stata acquisita dobbiamo invece cercare di trovare delle soluzioni alternative al porta a porta ci sono le piattaforme che sono Stoyle Incale piuttosto che altre che permettano di fare la raccolta differenziata secondo me la raccolta differenziata fa parte di un percorso integrato perché la raccolta differenziata senza il termo valorizzatore non ha nessun senso il termo valorizzatore senza una raccolta differenziata che porti al riciclaggio e porti invece come è stato detto le parti che non si possono riciclare al termo valorizzatore non avrebbe senso noi dobbiamo affrontare il problema rifiuti con questa catena sapendo che l'obiettivo è che il 90% possa essere possa riprodursi in energia teniamo conto che una città la città di Torino se parametrata da altre città europee in realtà avrebbe bisogno o il doppio di questo termo valorizzatore o due infatti in una prima fase si era pensato di farne uno a sud e uno a nord della città opzione superata secondo me giustamente perché oggi incominciamo a provare come funziona con questo e ovviamente e termino sulla parte più delicata e più importante ci devono essere però mi pare che siano stati messi in fieri tutti i controlli più precisi più puntuali perché non venga prodotto inquinamento e ci sia la tutela della salute dei cittadini mi pare che questi strumenti ci siano e quindi si possa procedere su questa strada allora io provo a dire qualcosa di diverso anche per se no diventa anche un po' noioso credo che certamente anch'io condivido il fatto che siano stati fatti dei grossissimi passi avanti sulla differenziata tra l'altro anche con non poche difficoltà che soprattutto i comuni vivono in questo periodo perché chiaramente la differenziata per le motivi anche che diceva Daniele sono poi lo sviluppo l'incentivazione richiede anche degli investimenti che poi come al solito a medio-lungo termine possono essere insomma ammortizzati però subito ci debbono essere e quindi sappiamo che le casse dei comuni in questo periodo sicuramente non godono insomma di grandi opportunità però credo che certamente la regione Piemonte non può lavorare da sola una questione importante sarebbe quella della riduzione dei rifiuti a monte quindi questo chiaramente però debbono intervenire politiche nazionali e magari non solo nazionali a questo punto sì però diciamo che questo è un altro dei fronti che forse si tocca sempre poco che però dovrebbe essere sicuramente anche più sostenuto soprattutto dal punto di vista delle politiche e poi certo sarebbe importante io credo che sia in questo momento più una così una provocazione teorica però il tema del rifiuti zero cioè nel senso che questo sia attendere insomma uno degli obiettivi è chiaro che viene portato avanti da chi ritiene che per esempio appunto il termovalorizzatore non sia certamente uno invece degli strumenti noi pensiamo che sarebbero diciamo di termo cioè beh non è che beh insomma però chi porta avanti insomma la questione dei ognuno dice quello che ritiene nel senso che i termovalorizzatori però credo che innanzitutto parlare anche di termovalorizzatore in senso generale vuol dire un po' poco cioè nel senso che bisogna vedere anche qual è la tecnologia adesso ci sono anche altri tipi di tecnologie che possono essere insomma portate avanti proprio per portare a insomma a diciamo poter insomma ridurre quindi certamente non le discariche ma si possono anche utilizzare gli impianti anaerobici ci sono tante altre modalità e non necessariamente l'inceneritore anche perché io mi permetto anche molto sommessamente di dire che per esempio noi siamo qui a Torino prima si ricordava c'è questo termovalorizzatore che ha iniziato il suo funzionamento però devo dire che insomma ci sono già stati tanti stop and go che anche nei confronti della popolazione non mi sembra che stiano dando un'immagine così serena e quindi da questo punto di vista credo che insomma non è così rosea la situazione mi fa piacere appunto che ci sia l'idea anche che finalmente c'era quella di avere due inceneritori nella provincia di Torino che non aveva insomma particolare senso e che sicuramente disincentivava anche l'aumento della raccolta differenziata però credo che una riflessione anche a fronte delle nuove tecnologie si possa fare e poi mi permetto anche di ricordare un'altra delle questioni che per esempio abbiamo seguito come consiglio regionale e anche quella per esempio dell'individuazione invece di territori per quanto riguarda le discariche di rifiuti speciali che è anche un tema piuttosto delicato in particolare in questo ultimo periodo ne abbiamo seguite due una era la discarica di Barengo per l'Amianto nella provincia di Novara e su questa al momento c'è stato un fermo e sicuramente questo però è un tema poi da affrontare perché magari da qualche parte comunque i rifiuti speciali debbono essere smaltiti e quindi insomma l'attenzione deve essere comunque alta anche magari andando al di là della logica a Nimbi e l'altra per esempio ancora un tema aperto la discarica di Sezzadio nell'Alessandrino e anche lì si è aperta approfondendo la questione un aspetto che è quello per esempio che non salvaguarda cioè che non abbiamo dal punto legislativo né regionale né nazionale sembrerebbe una legislazione che permette effettivamente di capire rispetto alla situazione delle falde acquifere come poter insomma andare a localizzare in modo puntuale queste discariche anche perché appunto a Sezzadio c'è un problema di falda acquifera che sicuramente ha anche allarmato non poco la popolazione se gli argomenti sono molti il tempo purtroppo c'è tiranno e ne avremo bisogno di molto di più però appunto insieme alla precisazione facciamo l'ultimo giro con l'ultima questione visto che la consigliera Cerutti ha introdotto anche il tema dell'amianto una vicenda che ha colpito anche l'emotività dei piemontesi sappiamo che poi recentemente ci sono state importanti sentenze è stato riconosciuto un importante risarcimento alla regione Piemonte altri risorse sono state messe sulla questione bonifica dei siti inquinati probabilmente c'è da fare l'ultimo miglio ancora insomma quali sono quindi i nodi aperti da affrontare da qui a breve termine sulla questione bonifica dell'amianto credo credo che innanzitutto si debba per il futuro dare piena applicazione alla direttiva RIC che prevede la verifica di tutti i prodotti chimici passati e la verifica dal punto di vista del potenziale effetto sull'ambiente exante dei nuovi prodotti perché dobbiamo cercare di evitare di creare i danni il caso dell'amianto è stato un caso assolutamente drammatico perché ci siamo trovati ad essere non solo utilizzatori come tutti perché l'amianto è stato utilizzato ovunque nel mondo ma ci siamo trovati ad essere anche produttori con una fabbrica oltretutto che non aveva neanche messo in atto le norme minime vigenti anche all'epoca per quanto riguarda la sicurezza dei lavoratori e poi naturalmente le norme nel tempo sono evolute ma non lo erano nemmeno allora e questa è anche la ragione della condanna la sottovalutazione voluta del rischio quando il rischio era già noto non quando non era noto ma quando era già noto quindi credo che la condanna sia stata esemplare perché un datore di lavoro un proprietario d'azienda in questo caso che si rifiuta di prendere atto delle consapevolezze scientifiche esistenti che mettono a rischio gravissimo i suoi lavoratori deve essere considerato non solo come dire responsabile ma deve essere considerato anche responsabile da un punto di vista criminale nel senso che ha voluto creare quel rischio quantomeno non ha voluto rimuoverlo che è esattamente la stessa cosa da un punto di vista penale oggi il problema della bonifica è molto grave perché ovviamente c'è un'ipersensibilità inevitabile in Piemonte sull'amianto però noi dobbiamo sapere che è molto più sicuro avere l'amianto in una discarica con gli opportuni trattamenti per evitare che si possa polverizzare che averlo in giro nel territorio e quindi bisogna trovare queste soluzioni ovviamente noi abbiamo poche aree veramente impermeabili cioè argillose che non non facciano penetrare l'acqua e quindi non la falda e bisogna che chi abita in quelle aree si renda conto che il sacrificio non è una messa a rischio di quel territorio perché sono a rischio coloro che potrebbero vedere percolare l'amianto nelle acque che poi tutti quanti utilizziamo voglio ricordare una cosa che quando noi parliamo di riciclaggio al 98% al 100% probabilmente non esiste ma al 98% e ci sono aree del nord Europa che sono in questa situazione c'è sempre una una sezione di questo di questo recupero che è a recupero energetico credo che chiunque analizzi una propria pattumiera si rende conto che ci sono cose non riciclabili allora o vengono digerite in qualche modo in un digestore si produce del gas ma poi vanno a discarica oppure bisogna che solo quella sezione vada all'incenerimento e che vuol dire che la differenziata deve ancora crescere molto fortemente solo quella sezione vada all'incenerimento e che poi le ceneri dell'incenerimento vengano rese inerti e siano riutilizzabili perché altrimenti non si arriva al 98 99% ci si può arrivare ci sono la città di Malmo ad esempio ha questa situazione e ha un normale inceneritore che anche nella fase prima dell'incenerimento fa ancora una selezione di ciò che è recuperabile e che non è stato selezionato dai cittadini e quindi manda veramente solo l'ultima frazione e poi rende inerti le ceneri perché altrimenti di nuovo abbiamo una discarica e non abbiamo il 100% o il 98% diciamo di recupero a questo si può arrivare bisogna arrivarci laicamente sapendo che comunque avremo bisogno ancora di alcune discariche per i rifiuti speciali per quelli che non possono andare in un inceneritore o che non possono essere riutilizzati e avremo bisogno di inceneritori o simili perché sempre di impianti tecnologici si tratta che trattino l'ultima frazione non recuperabile fermo restando che a valle ancora di questi occorre un ulteriore recupero io intanto devo dire ribadisco che comunque quelle che sono i dati acquisiti quindi le varie reti di monitoraggio che tra l'altro in un'audizione in quinta commissione dove sono presidente avevamo fatto molto tempo fa con con l'ARPA e quindi ha dato una mappatura veramente dei siti contaminati ma non solo esclusivamente da parte dell'amianto quelli che possono essere stati messi in sicurezza e quant'altro ma anche sulla parte delle radioattività e anche dei siti nucleari che comunque sono quindi questo monitoraggio è assolutamente importante e questi sopralloghi puntuali aiutano a mettere a mettere chiarezza di come intervenire e fare una politica di intervento strutturata e devo dire che il recente bando anche per quanto riguarda la bonifica degli istituti scolastici degli edifici scolastici è stata sicuramente una cosa importante la volontà da parte dell'assessore di impegnare i 20 milioni che sono stati riconosciuti in quella sentenza di cui si parlava prima di rimetterli in gioco sul territorio per fare ulteriori bonifiche e sicuramente sono segnali importanti di capacità di ridurre questo problema che come si diceva è qualcosa che alla sensibilità del cittadino è molto sentita a questa io però aggiungerei un aspetto che bisogna cogliere una riflessione che ho sentito in questi giorni e che l'assessore Ravello ho sentito che ha voluto sottolineare presentando anche questo monitoraggio di cui oggi abbiamo preso spunto per fare questo incontro rispetto al Ministro Orlando che ha suggerito la possibilità o comunque di incominciare a ragionare che i comuni possano non rispettare il patto di stabilità per quanto riguarda gli investimenti in ambito di bonifica e anche poi di altri ambiti quale quello dell'assetto idrologico e la salvaguarda del suolo e quant'altro questo lo trovo molto importante perché aumenta la capacità non solo del del singolo ente quale regione ma dà la possibilità anche ai comuni che sono più vicini a determinate situazioni magari critiche penso alla cava di Balangero piuttosto che di altre situazioni per intervenire dandole uno strumento della possibilità di sforare le patto di stabilità che spesso le risorse ci sono ma con questo patto di stabilità non le possono utilizzare può essere un ulteriore strumento di aiuto sì non credo che ci sia più molto da aggiungere su questo fronte credo appunto che da una parte certo c'è la questione iniziale posta rispetto a quella che è insomma la responsabilità sociale delle imprese e quindi chiaramente qui in Piemonte abbiamo Eternit che è diventato chiaramente a Valenza nazionale non solo e certamente insomma questo aspetto non di poco conto anche e soprattutto in un periodo anche di crisi in cui tra l'altro sembra insomma che alcuni elementi divengano quasi dei lussi quando invece appunto il tema della sicurezza sul lavoro inteso in senso generale e anche su questo fronte invece sicuramente è un tema molto importante dall'altra credo che la questione collegata sia proprio quella delle bonifiche dei siti cosa molto complicata e spesso anche insomma palleggiata diciamo fra la parte pubblica e la parte privata e anche insomma anche per quanto riguarda per esempio realtà torinesi come insomma sono anche siti per esempio gli stessi della Fiat per cui avevamo anche il problema su TNE sulla questione delle bonifiche di chi si facesse carico dell'appunto di quello che è l'investimento finanziario e noi tra l'altro appunto da questa indagine emerge che abbiamo come siti contaminati in Piemonte 1397 che sono sicuramente un numero ragguardevole e tra l'altro ci fanno anche dire che appunto certamente da una parte dal punto di vista pubblico c'è il tema di chi mette le risorse ed è però sicuramente anche un settore adesso di sicuramente di business per le aziende quindi che si occupano appunto di bonifiche quindi è certamente anche un settore su cui appunto delle aziende possono intervenire quindi anche avere insomma la loro possibilità di sviluppo appunto e poi è chiaro che non dimentichiamo visto che abbiamo citato l'Eternit che in regione Piemonte c'è anche la questione dell'acna di Cengio che l'assessore Ravello sta affrontando che anche noi dovremmo affrontare insomma come consiglio regionale anche perché si sta appunto prospettando il passaggio diciamo privato insomma del sito e anche lì il tema delle bonifiche però e dei controlli dovrà credo rimanere ancora in sede pubblica e quindi da questo punto di vista credo che il consiglio regionale si dovrà insomma impegnare per garantire insomma alla popolazione piemontese che questo continui a permanere a me mi pare sull'eternet abbiamo vissuto una sbornia collettiva nel senso che certo c'è una responsabilità delle aziende produttive ma c'è una responsabilità più generale di chi ha vissuto gli anni dell'evoluzione dell'eternet quindi dal costruttore all'utilizzatore finale perché questo è stato l'accanalicenio rientra anche un po' in questa fattispecie se vogliamo metterla dentro perché spesso negli anni passati si è privilegiata la produzione e la possibilità di stare sul mercato o comunque di dare delle soluzioni facili economiche e si ritenevano anche magari avanzate piuttosto che verificare la salute dei lavoratori delle aziende e delle popolazioni circostanti perché il problema dell'accanalicenio non è solo dei lavoratori dell'acna ma di tutta la valle vormida e quindi voglio dire si è privilegiato come dire il progredire del paese tra virgolette rispetto alla invece salute dei nostri concittadini e questo vale anche secondo me per l'eternet con grande responsabilità della eternet ma ripeto con grande responsabilità poi anche a valle perché tutti abbiamo vissuto di questo periodo di sviluppo poi è suonata più volte il campanello d'allarme devo dire non sempre è stato ascoltato con la dovuta attenzione se dobbiamo dircela tutta e poi è scattata una contraddizione che il privato non parlo del grande privato vorrei essere preciso che i privati hanno come dire adderito alle bonifiche prima del pubblico il cittadino privato ha capito prima dell'ente pubblico che doveva bonificare le strutture che aveva in eternet e questo è avvenuto in questi anni non parlo delle grandi società private perché invece lì c'è stato un percorso molto simile al percorso pubblico e quindi noi ci siamo trovati in questi ultimi anni poi per fortuna c'è stata un'accelerazione anche da parte del pubblico a dover recuperare strutture pubbliche che avevano tetti in eternet strutture in eternet e quindi ad essere indietro rispetto al cittadino privato e questa è una contraddizione non da poco e se mi permettete con responsabilità di tutti cioè non ha coloritura politica nel senso che il paese come dire e chi amministrava la politica non è andata avanti in quell'occasione ma è stata dietro al paese Rabello ha fatto bene secondo me ha incentrato e soprattutto penso sulla maggiore consistenza di pubblico che è rimasto ancora con strutture di eternet tetti di eternet che sono le scuole perché sulle scuole purtroppo arriviamo all'ultimo intervento perché mentre altre strutture pubbliche sono state bonificate molte scuole non solo di Torino e Provincia non solo del Piemonte ma italiane hanno ancora delle strutture in eternet gran parte dei casi sono dei tetti in eternet quindi aver messo questo stanziamento è molto importante perché vuol dire proseguire in quest'opera di bonifica che sarà conclusa solo quando anche il pubblico l'avrà conclusa perché se vogliamo essere di esempio nei confronti dei cittadini avremmo dovuto essere i primi a metterci a posto arriviamo per ultimi però comunque terminiamo un percorso che ritengo molto importante grazie a tutti grazie a tutti